Istruttore e merito di alpinismo è il titolo con il quale Camillo Della Vedova è stato insegnito nei giorni scorsi a Morbegno dalla scuola di alpinismo Luigi Bombardieri e dal CAI Valtellinese. Molto soddisfatto e un bel riconoscimento per tutta l'attività che ho fatto nel CAI. Un riconoscimento che premia la sua carriera, dedita alla sicurezza alpinistica e alla promulgazione dei valori della montagna. Camillo ha dedicato proprio tutta la sua vita alla Club Alpino Italiano e in particolare a insegnare come si va in montagna a migliaia di persone. In tutti i corsi lui era sempre presente come istruttore, come direttore, come presidente. Insomma ha avuto modo di essere vicino e insegnare a tantissimi valtellinesi. Camillo Della Vedova, classe 1946, si è avvicinato alla montagna verso i 30 anni. Nel 1981 entra a far parte della sezione valtellinese del CAI di Sondrio e nell'83 consegue il titolo di istruttore regionale di alpinismo. Dalle scuole che ha presieduto sono usciti molti giovani che sono diventati alpinisti affermati. E' stato nominato istruttore emerito e questo titolo non è che viene dato a molti perché per poterlo fare bisogna essersi distinti nell'attività di insegnamento e di istruttore. Bisogna almeno averlo fatto per 20 anni.